Sali buchi! Papà ha detto di non giocare con l'aeroplano! Questo non è un aeroplano, è un Superolt 600! Sei sicuro? Certo! 4, 3, 2, 1, 0! Non preoccuparti, ti farò scendere da lì! Debo, vai in camera tua! Stavamo solo giocando! Papà! Papà, hai visto buchi? No, perché? Qualcosa non va? Oh, buchi! Penso che farò una chiacchierata con tuo fratello e con tuo nonno! Ok, ricevuto, signore! Ma perché hai fatto una cosa simile? Io non capisco! Mi annoio! Si sentono soli, i loro fratelli sono andati in campeggio! Papà! Io voglio avere degli amici come tutti i bambini! Ma non puoi, tesoro! Tu sei un po' diverso, ecco! Debo, ascolta, tu hai la cosa più importante che una persona possa avere! Tu hai una famiglia che ti vuole tanto bene! Lo so, ma devono esserci altre cose nella vita, oltre la famiglia! Ah, scusa, non ti va di giocare con me? Papà, è ora di dormire! No, no! Tu hai una famiglia che ti vuole tanto bene! All'improvviso ho visto una palla di fuoco cadere sulla stalla! Va bene, ho capito! Generale, abbiamo un unico testimone! Qualche ora fa ha sentito un rumore, poi ha visto una palla di fuoco schiantarsi su questa stalla! Di bucci sei! Martin, sei tu? Chi altro dovrei essere? Ho una sorpresa per te! Abbiamo chiantato per me! Ma non ci siamo mai visti in faccia! Così non può continuare! Preparati, Debo! Mi vedi bene? Bene, anzi benissimo! Ti credevo diverso! Io ti immagino! Alto, magro e col viso piano di lentigini! Adesso tocca a te! Procedete! Mi vedi bene? Non sparate! Terreni, per molti anni voi avete utilizzato il nostro pianeta come discarica nucleare. Sappiamo che le negoziazioni pacifiche sono del tutto inutili. In questa piccola sfera è contenuta solo una piccola parte di ciò che ci avete mandato. Il resto arriverà fra non molto. Fra 18 ore il pianeta Terra sarà solo un ammasso di rifiuti. Rimoldi, chieda subito rinforzi e porti fuori gli animali. Rimoldi! Sì, signore. Debo, qualcosa non va! No, perché? Perché non vedo la tua immagine! Il fatto è che io non ho la webcam. Allora mandami una foto. È che io ho un problema. Qualcosa che non posso dire a chiunque. Io non sono chiunque. Noi siamo amici, giusto? Già, tu sei il mio unico amico. Stai pronto, sto arrivando. Dunque, vediamo. Ehi, cosa mi mandi? Una caricatura. Stai scherzando, vero? No, credimi, sono proprio io. Ok, allora diciamo che i ritratti non mi piacciono. No. E non mi posso fidare di te se non vuoi mostrarmi il tuo viso. Martin, hai visto la mia parrucca? Oh, ecco mio padre. No, Martin, aspetta! Indovina chi sono? Da lì? I men? Ah no, Bill Gates! Ti ho detto cento volte che i computer rovinano l'intelletto alla gente, inaridiscono il cervello dei bambini. Quando avrai finito di usarlo, non dimenticare di spegnerlo. Sì, papà. Ti prego, nonno, portami da lui. No, ti sto già aiutando ad aggiustare questo. E poi ci metteremmo davvero nei guai se il mondo venisse a sapere di te. Solo Martin verrebbe a saperlo e lui è il mio amico. No, abbiamo già fatto abbastanza danni. Tuo padre e tua madre mi ucciderebbero. Nonno, tu non hai degli amici? Sì? E come ti sentiresti se non potessi mai vederli? Per favore, nonno, portami da lui. Generale, il campo di energia che circonda la sfera la rende indistruttibile. Il suo carico equivale più di dieci bombe H. Se dovessero usarlo contro di noi, potrebbe distruggere la Terra. Chiami il Presidente. Chi è? Sono Attilio, il nonno di Dibu. Chi è Dibu? Non ti arrendere, nonno. Dibu, il tuo amico. Io non ho amici. Forse non sono tuo amico, perché sono solo un cartone. Lei è un mago, scommetto che è un trucco. Non c'è trucco e non c'è inganno. Ahahahahah. Dibu, verrò a prenderti fra un paio d'ore. Comportati bene, eh? Sta tranquillo, nonno. Faremo i... Chi è? È Tuono. Il mio cane. Fai il bravo bambino. Guarda qua, Dibu. Sì. Wow. Lui è Tuono. Tuono, saluta Dibu. È veramente forte il tuo cane. Dove l'hai comprato? L'ho costruito io. Davvero? Ma allora sei un genio. Ne avevo molti di più, ma mio padre me li ha nascosti. Spero di non finire anch'io nel ripostiglio. Bill Gates. Imen. Da lì. Mozart. 1756-1791. Compositore austriaco, clavicembalista e violinista precoce. Grazie. Quando era bambino faceva già dei concerti col clavicembalo. Non stai facendo un centesimo, Mozart. Signori presidenti, stando alle nostre ricerche, se quelle sfere marziane dovessero entrare nella nostra atmosfera, il pianeta Terra verrebbe distrutto in poche ore. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo nascosto per anni l'esistenza di creature extraterrestri. Questo è vero. Molte volte ci è stato chiesto di smettere di utilizzare il pianeta Marte come discarica nucleare. Oggi la minaccia è piuttosto concreta. Io ritengo che dovremmo inviare una missione di pace per frenare l'attacco di Marte. Signori, questo è tecnicamente impossibile. Nessuna astronave potrebbe staccarsi dal suolo terrestre in meno di 48 ore. Proprio così. Non abbiamo tempo. Forse lo abbiamo, signori. Forse per il mondo c'è speranza. Non posso dirvi di più. Quando saprò qualcosa, mi rifarò vivo. Dobbiamo rilanciare il progetto Doxon. Signor Presidente, non credo sia una mossa saggia. Doxon è un uomo emotivamente instabile. Inoltre il progetto è stato abbandonato da anni. Se ha un'idea migliore me la dica, generale. Mi trovi Doxon. Indovina chi sono? Professor Doxon. Venga con me, prego. So, venga. Grazie, amico. Con i tuoi soldi hai aiutato la giustizia. 45, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Un'idea migliore. Tadda libera tutti. Attenso! Dibu, stai bene? Sì, benissimo. Vieni. Che disastro. Tuo padre ci ucciderà. E quella porta, perché è chiusa? Mio padre ha lavorato lì dentro finché non ho compiuto cinque anni. Poi ha lasciato perdere tutto. Ma perché è sprangata? Credo che per lui sia un brutto ricordo. Una volta mi ha detto che era meglio che restasse chiusa per evitare le tentazioni. Che cosa faceva là dentro? Perché non diamo un'occhiata? Magari potresti aiutarlo, che ne dici? Coraggio! Avanti, proviamoci! Forza, Dibu! Entriamo, Martin! Attento, è buio pesto. Non capisco. Non c'è niente di strano qui dentro. Qualcosa ci deve essere. Cos'è quella foto? Lei è tua madre? È talmente bella. Dove si trova adesso? È in paradiso. Oì, che succede? Arriva qualcuno. Ora potrà finalmente rilanciare il suo progetto. Non voglio niente da voi. Non vi hanno insegnato a chiedere permesso. Ha cambiato la foto. Una volta c'era quella del presidente. Mi aiuta a ricordare il mio errore. Benvenuto, professor Doxon. Professor Doxon. Buongiorno, Bladisho. Doxon. Lei è il miglior scienziato del paese. Lei ha concretizzato l'impossibile. Trasformando disegni su computer in oggetti reali. Non è così? Il presidente mi ha detto di fornirle tutto quello di cui ha bisogno. E di implorarla. Di tornare a lavorare con noi. Il mondo è minacciato da una bomba aliena. È solo un'altra bugia, generale. Non c'è assolutamente nessuna bomba aliena che ci minacci. Le sto solo chiedendo di controllare se questa macchina funziona. Abbiamo energia a sufficienza. Possiamo tentare, professore. 중요한 un'ottima Va estudio... ... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sta scherzando. Immediatamente. Non ho materiale per creare un oggetto tanto grande. Inoltre non c'è energia a sufficienza. Sì, c'è. Posso metterle a disposizione tutta l'energia atomica che viene prodotta dalla centrale nucleare della Sierra Nevada. Lei non ha scuse, Doxon. Bisogna fare dei test, costruire un prototipo. Il mondo sparirà, lo capisce? Cosa? Lei mi chiede di fare in 14 ore ciò che non ho saputo fare in molti anni. Anche se ho sempre pensato che fosse un perdente, un fallito, le darò cinque minuti per darmi una risposta. Papà, perché non mi hai mai detto che eri uno scienziato? Ho lavorato per anni in questo laboratorio per realizzare un sogno. E quando ce l'ho fatta, il generale mi ha tagliato i finanziamenti perché non volevo prendere parte ai suoi progetti sugli armamenti. Avrei potuto dedicare quegli anni alla mia famiglia. Così ho deciso di chiudere il laboratorio e mi sono cercato un altro lavoro. Ma quell'uomo ha detto che il mondo è in pericolo e che tu sei l'unica persona che può aiutarlo. Dammi un buon motivo per farlo. Salverai il mondo. A questo non ci credo, dammene un altro. Voglio ancora stare con te, papà. A questo non ci credo, dammene un altro. A questo non ci credo, dammene un altro. La dottoressa Ramos è qui per attivare la centrale. Dobbiamo sbrigarci. Benvenuto, professor Doxon. Disponiamo di un potenziale energetico di 300 megawatt. Saranno sufficienti, molte grazie. Il reattore nucleare è stato spostato per materializzare la navicella spaziale. Ora dobbiamo solo connetterci al suo sistema operativo. Preparate il generatore. Procedete. Noi siamo pronti. Bene, cominciamo. Attivato. Generatore ARD. Pronto. Procedura ARD attivata. Potenza iniziale. Ci siamo. Fra 15 secondi avremo tutta l'energia possibile. L'energia sta raggiungendo la centrale. Massimo potenza tra 5, 4, 3, 2, 1. Massimo potenza, professore. Materializzazione semita. Sei un genio, papà. Congratulazioni. Preparatevi al lancio. Siamo pronti. Stiamo per salire sull'astronave. Ricordate gli ordini, colonnello? Convincere i marziani a rinunciare all'attacco contro di noi e consegnare loro il duro di pace, generale. Mi ero sbagliato sul suo conto, Doxon. La sua invenzione è davvero geniale. Non perdiamo tempo, devono partire. Il generatore sta perdendo potenza. Anomalia improvvisia della solidità dell'astronave. Mi occorre un rapporto sull'anomalia. Doxon. L'energia è insufficiente per alimentare la solidità dell'astronave. Provate subito una soluzione. Abbiamo raggiunto la massima potenza. Dovrei controllare i miei appunti, mi ci vorrebbero dei mesi. Mesi? Abbiamo soltanto poche ore. Si rende conto che la sua invenzione è solo un cartone animato? Io sono uno scienziato, non un mago! Doxon! Doxon, torna qui! Papà! Per un momento ho creduto di farcela. Ma l'astronave funziona, no? Il generale ha ragione, è solo un cartone animato. Non è solida, nessuno può guidarla. Eccetto un cartone. Papà, ti posso presentare un mio amico? Papà, lui è Attilio. Doxon mi ha detto che lei ha la soluzione. Eccomi qui, ai suoi ordini, generale. Sono pronto ad entrare subito in azione. Ma cos'è questo? Il nostro equipaggio. Bene, cominciate il suo addestramento. Il nostro equipaggio è il nostro coraggio. Forza, coraggio, riesgo di valore. Suerte nel viaggio, suerte la misura. Soi un héroe incredibile, soi un héroe de verità. Soi valiente e impensibile. Il nostro equipaggio è il nostro coraggio. Stai bene, D.V.? Benissimo, posso stare ancora un po'? Portatelo all'astronave Solo un momento, generale Prima di partire per la missione spaziale Devo chiedere il permesso a papà e mamma Giusto, nonno? Ah, certo Su un altro pianeta? Su Marte, per salvare il pianeta Terra Che bello, puoi portare anche me? Ragazzi Posso andare, papà? Ti prego, dimmi di sì Io sono stato addestrato, vero, nonno? Beh, io vado a controllare l'arrosto Ho una proposta Cosa? Adesso pranziamo e poi andiamo al cinema a vedere un film di fantascienza Non abbiamo tempo, mamma La fine del mondo si avvicina Cos'è? Che sta succedendo? Sono arrivati Oh, per favore, non scherziamo Adoro tutto questo Sono il padre di Martin C'è qualcuno che vi vuole parlare Presidente Signor Presidente Signor Medina Signora Medina A nome del nostro paese e di tutti i paesi del mondo Vengo a supplicare la vostra autorizzazione a mandare dibu su Marte Il sistema operativo del computer di Doxon è stato duplicato Complimenti, Ramos E il dono di pace? Guardi, generale Ottimo La configurazione della bomba è pronta Molto bene Si prepari a camuffarla Signora Medina Stai attento, mi raccomando, Dibu Siamo fieri di te, figliolo Mi passi il presidente Ti voglio bene, fratellone Anch'io, a bicura di mamma e papà E di nonno Attivata energia nel generatore ARD Tutto pronto, professore? Massima potenza Richiesta permesso di salire a bordo Permesso accortato La squadra di salvataggio è pronta? Sì, signore Avanti, soldato Generatore di energia, potenza massima Astronave pronta per il decollo Dare inizio al conto alla rovescia Comincia la fase di accensione Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Distacco Quattro Sto arrivando E caldo effettuato Tutto procede regolarmente Goditi quest'avventura, figliolo Tra pochi secondi abbandonerà l'atmosfera Dibu, mi senti? Forte, chiaro La finita connessione con la navicella spaziale Mamma, devo fare pipì Aspetta un po', buchi Uffa Dibu, ora cominceremo la fase di distacco Quando vuole, professore Io sono pronto Io sono pronto Cos'è quella, Doxa? Dibu mi ha chiesto di fare una modifica nel disegno dell'astronave E quella salverà il mondo? Forte! Mi piace un sacco, professore A te piace, papà Congratulazioni, Dibu È più carina del mio taxi Inizia la depressurizzazione Dibu, senti freddo lassù? Sembra di stare in paradiso, mamma Tranquillo, generale Non ho dimenticato la mia missione Sto andando dalla parte sbagliata Dalla parte sbagliata? Che succede? E adesso che faccio? Dibu, procedi senza toccare quelle sfere E mantieni la rotta dell'astronave Sono pericolose Mortali Hai sentito? Sono mortali Dibu, ascolta Guida come ti ha insegnato papà Non temere, per me sarà come bere un bicchiere d'acqua Nonno, dammi sedativi Buchi L'invincibile Dibu affronta una terribile tempesta di sfermi Levita una Poi due e nessuno può fermarlo Mantieniti a destra, Dibu E tu chiama i pompieri Dibu D'ora in poi non ci dovrebbero essere altri ostacoli Procedi tranquillo Attenti marciani Sto arrivando Dibu 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 Ma chi è? Non lo so, non l'ho mai visto Signori Sei pronto a entrare nell'orbita di Marte? Sì, signore Allora non perdiamo altro tempo Preparati Adesso sentirai l'effetto dell'accelerazione Presto premi il deceleratore di potenza No No, il bottone rosso Così morirà Quale bottone rosso? È sopra la foto di Gardel Ah Te l'avevo detto, Dibu, di volare piano È tutto a posto generale Questo tubo contiene l'LN2 È un liquido che ghiaccia a 50 gradi sotto zero E mescolandosi con l'ossigeno di Marte Il liquido si scongelerà e sarà automaticamente eliminato Quindi? Due ore dopo che Dibu avrà consegnato ai marziani il dono di pace La bomba esploderà Eccellente, Ramos Così il pianeta Marte sarà fatto a pezzi Salveremo la Terra e non perderemo altro che uno stupido cartone animato Sono preoccupata, generale Sia tranquilla, Ramos Lei sta facendo un favore alla sua nazione E al mondo Buchi? 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 Agli ordini, io sono pronto, signor generale Ripassiamo il piano Convincerli a fermare le loro sfere Ma c'è una cosa più importante Devo consegnare ai marziani questo dono in segno di pace Esattamente, soldato Ricorda che quando ti allontanerai dall'astronave ti potremo sentire solo attraverso il tuo orologio Non aver paura, Dibu, andrà tutto bene Non puoi aver paura, tesoro, i Medina sono tutti eroi nati Ciao, mamma Cerca di essere prudente Ora devi compiere la tua missione E fa' attenzione Non conosciamo gli abitanti di questo pianeta Potrebbero essere così Forse non sono così brutti E non hanno la testa tanto grande e orribile Appena mi avranno ascoltato Scommetto che vorranno fare pace con il nostro pianeta Sì, ne sono sicuro Non devo avere paura Non devo avere paura Che stai facendo? Se distruggi la mia astronave non potrò tornare a casa D'accordo, amico, sta calmo, non ti arrabbiare So di aver esagerato, ma quando qualcuno prova a toccare la mia astronave divento matto Devo trovare una soluzione Posso respirare? Spero di poter continuare a respirare C'è mancato poco Silver! Scappa! Scappa! Non temere, lo fermerò io Silve, seduto Puoi sentirci, Dibu? Riesci a sentirci? Ci senti? Che cosa è successo? Perché abbiamo perso il contatto? Non lo so Forse il suo auricolare è fuori uso Lui sta bene I suoi segni vitali sono a posto Sentite? Il cuore gli batte molto forte Questo mostro mi stava mangiando vivo Non è un mostro, è un blef Un che? I blef sono i nostri animali Lui si chiama Silver E sono sicura che si è spaventato quando ti ha visto Io l'ho spaventato Io mi chiamo Grumi Io sono Dibu e vengo dal pianeta Terra Buchi tesoro Dove eri finita? Mi sono persa Delle persone tanto cattive vogliono uccidere Hanno messo una bomba D'accordo, raccontami ogni cosa, ma lentamente Prima ho sentito delle persone che dicevano di aver mandato una bomba su Marte Che ucciderà tutti quanti i marziani E anche mio fratello Davvero? Ne sei sicura? Sì Quei signori sono proprio cattivi Chi sono questi signori? Non lo so, ma sono tanto cattivi Che serata magnifica E così sei spazzatura Cosa? Ormai da diversi anni riceviamo soltanto rifiuti da quell'orribile pianeta Io sono un ragazzo terrestre, non sono affatto spazzatura Sì, sei spazzatura No Figliolo, abbiamo un problema piuttosto serio E credo che tuo padre possa aiutarci Ma prima dobbiamo allontanarlo dal generale Signori, quando tutto questo sarà finito Papà, papà Aspetta un minuto, figlio mio Quando tutto sarà finito Dibu, la dottoressa Ramos e lei, Doxon, sarete considerati degli eroi Dov'è la dottoressa? Sta controllando il reattore No, non possiamo contare sul mio padre Anche lui è con loro Mi ha mentito, come sempre Dovete credermi, vengo dal pianeta Terra E sono qui per presentarvi un dono di pace Ragazzo mio Posso capire che a volte è difficile accettare la realtà Ma le sole cose che ci vengono dal pianeta Terra Sono la spazzatura e le scorie nucleari Inoltre, guarda qua E adesso guardati Tu non gli assomigli affatto Lei è proprio testardo È più conciuto di mio padre Papà, io credo che dovremmo dargli una possibilità Andiamo, per favore E sia Ma solo una possibilità Certo che quello è il mio figlio E anche il mio Visto Ma come è possibile? Voi due siete degli esseri umani Mentre lui è un cartone Questo neanche gli scienziati hanno saputo spiegarlo Ma di sicuro Dibu ha un cuore d'oro Ed è anche molto carino Cosa? Volevo dire che per essere un cartone È ben disegnato Naturalmente Quindi è vero che Dibu è venuto a rappresentare la razza umana Esatto Dibu rappresenta tutti noi Vi preghiamo di starlo sentire Parla a nome di tutti i miliardi di persone che abitano questo pianeta Le cui vite sono in pericolo L'assemblea dei saggi ha deciso di mandare su di voi le sfere esplosive E soltanto loro ne possono ordinare il ritiro Allora lasci che io parli all'assemblea dei saggi E tutto questo finirà È assolutamente impossibile L'assemblea si riunisce soltanto una volta al mese Tra un mese Il pianeta Terra non esisterà più Spiacente La prego ci aiuti Lei è il capo dei saggi, no? Sì, ma... Avanti, papà Per favore E va bene Le piace il mio cane? Martina Addio Che ci fate qui? Beh, ti ascoltiamo No, il nostro regolamento prevede che prima dobbiamo cantare Il consueto inno di apertura del consiglio Credo che per questa volta si possa anche evitare l'inno Bisogna prendere una decisione urgente Signori saggi Signor presidente del consiglio dei saggi di Marte Signor ping pong Gentile signorina grumi Ho l'onore di rivolgermi a questa onorevole assemblea Per implorarvi di essere così gentili Da fermare immediatamente le sfere Che tra poche ore distruggeranno il nostro amatissimo pianeta Terra È possibile? No No E per quale motivo? Per molti anni abbiamo pregato tutti i presidenti delle superpotenze della Terra Di non inviarci più scorie nucleari Noi siamo sempre stati un popolo pacifico Ma non tolleriamo alcuna mancanza di rispetto Qual è la cosa che rispettate di più? La vita Qualunque forma di vita Sì Sul pianeta Terra ci sono miliardi di persone Animali Piante Ogni genere di creatura Perfino i cartoni È vero che fino ad ora abbiamo commesso molti errori Ma siamo pronti a rimediare a tutto il male causato In nome quindi dei presidenti di tutte quante le nazioni della Terra Ti posso assicurare che da adesso in poi viveremo tutti come amici Come fratelli E forse anche qualcosina di più I saggi ti hanno ascoltato Ora decideranno in segreto il destino del tuo pianeta Speriamo bene Ferma Così Toglietemelo di dosso Vogliamo che lei disinneschi la bomba Non posso Il processo è già cominciato È una bugia Sappiamo tutto Ciò che invece forse lei non sa È che i marziani Sono gente amichevole Ma distruggeranno la Terra Avete mandato Dibu E adesso lui morirà Obedisco solo agli ordini Lei ha dei figli? Si rende conto che può causare la distruzione totale del nostro pianeta? C'è un elemento Un elemento che è in grado di fermare la bomba Il ragazzo ha ragione Hanno riempito il nostro pianeta di spazzatura Sì, però adesso si sono pentiti Votiamo E dopo canteremo il nostro inno Il popolo accetterà la decisione del consiglio dei saggi Io credo a quel ragazzo Diamo ai terrestri un'ultima possibilità Fermiamo le sfere No, no, no Non possiamo fermarle Io voto contro Il destino del pianeta Terra È nelle vostre mani Se ci perdonate Giuro che vi canterò il vostro inno Fermiamo subito le sfere Evviva, siamo salvi Le sfere saranno mandate sul sole Si distruggeranno senza causare disastri Il mio ometto Vivo, sei un errore Papà, papà Ha visto il mio padre? No Dov'è Martin? Ora devi terminare la tua missione Sì, lo so Manca la cosa più importante, generale Il dono di pace Sì, signore Ecco fatto L'elemento per disattivare la bomba è all'interno della scatola Ma come ce la porterete? Attraverso internet Questa non è una soluzione Vivo non saprà usarlo Abbiamo un altro volontario nella famiglia Sono pronta, nanno Quando si parte? Buki, sarà un viaggio pericoloso Ti manderemo su Marte per mezzo del computer principale Vivo ha bisogno di me, giusto? Non voglio pensarci due volte Prego, dottoressa Ecco qua, è tutto pronto Ciao, Muki Sta' attenta Ti voglio bene, nanno Cominciamo Buona fortuna Dove sono, Martim? www.bassatonica.com.ar Oh, sto arrivando, fratellone Generale, c'è un intruso nella rete della base Eliminatelo Dica a Ramos di dare inizio all'operazione dono di parce Attento, Martim La stanno attaccando Sto tranquilla, Buki Ci penso io Aiuto, aiuto Presto, fate qualcosa, aiuto Sono salva, grazie E pensare che mio padre dice sempre che i giochi elettronici sono inutili Signore, da parte mia e di tutti i governi del mondo Ho il piacere e l'onore Di offrire a lei e alla sua gente questo nostro umile regalo Sorridete Spero che questo dono da oggi in poi sia un simbolo di pace e fratellanza tra i nostri pianeti E che regni sempre una grande amicizia tra di noi Direi che è proprio una riproduzione perfetta di una colomba terrestre E questo? Sul pianeta Terra diciamo che la popò delle colombe è sempre di buon augurio A quanto pare chi l'ha disegnata ha pensato ogni dettaglio La vostra è una cultura alquanto bizzarra Ma se dici così Allora grazie Non ci resta che una cosa da fare Portare il suo vestito in lavanderia, forse? No Festeggiare Dibu vuoi ballare? Beh ecco mi piacerebbe davvero molto ma con questa musica Vieni ti insegnerò io Fa come me D'accordo Su Su Giù 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 Su Di che segno sei? Una di quelle porte apre la via di accesso al computer principale della base Devi solo trovare quella giusta per andare su Marte Arrestateli Dobbiamo fare in fretta I marziani hanno fermato le sfere Dobbiamo cominciare l'operazione Mi cerchi il generale Marte Uno, due, tre Buona fortuna a me Quale sarà la porta giusta? Oh, pregioso L'ho trovata Finalmente E' questa qui Mio padre sa di tutto questo? Non lo so Scusa Grumi Ma quando finisce questa musica? Continua per tutta la serata Ascolta Non si potrebbe ballare qualcosa di diverso Di più allegro Ma non è possibile Certo che è possibile Sta a sentire Oh Ehi DJ Prendi questo Brano numero quattro amico A ballare la conga Che non è se sconda A ballare la conga Che bella festa Davvero divertente Ma che strano Non sapevo che il dono che ci hanno mandato i terrestri fosse anche un orologio Fase B è attivata generale Due ore allo scoppio della bomba Assassini Questa è una guerra E l'unica cosa che conta È la vittoria Ma loro hanno fermato le sfare Non posso correre rischi Potrebbero mandarcene delle altre Il presidente è d'accordo Non mi dica che sta facendo questo per conto suo Lo sto facendo per il bene della razza umana Rimoldi Li tenga d'occhio Sì signore A ballare la conga Che sta a milonga Che succede? La festa era così divertente Ci hai traditi Perché? I nostri scienziati hanno scoperto una bomba potentissima all'interno della colomba Io non ne sapevo niente Arrestatelo Cosa? Che ci fai tu qui? Come procedono le cose con Dibu? Stiamo preparando l'astronave per il suo rientro trionfante Cara, sono sicuro che in questo momento tutti quanti lo amano Grumi, sei venuta a trovarmi? Sono venuta a chiederti perché hai portato una bomba Io non ne sapevo niente, te lo giuro Vorrei poterti credere Vorrei tanto che tu mi credessi, Grumi Non importa che io ti creda o no E i scienziati non possono disattivare la bomba che hai portato Forse un modo c'è Quale? Devi andare subito alla mia astronave e metterti in contatto col professor Doxon Lui ci aiuterà Per quale motivo dovrei farlo? Perché potrai salvare il tuo pianeta E inoltre proverai che io non vi stavo mentendo Così dopo avrete sempre fiducia in me Andiamo Rilassati cara, è tutto sotto controllo No, sono un po' preoccupato Non c'è motivo, sta tranquilla Generale Io non capisco Vedrai andare Scusate Non vorrei che ci fosse qualche problema Io credo che sia venuto il momento di smettere di mentire a quella donna Io non sono tranquilla Bravo papà Che è successo? Vuoi dire che non sai niente? Di che parli? Buki, mi senti? Sono Martin Martin, ma dov'hai finito? Segui il percorso che io ti dirò E sarai trasportata nel cyberspazio fino all'astronave di Dibu Cerchi di contattare il presidente Ciao C'è qualcuno dall'altra parte? Sono Grumi Dibu mi ha detto di chiedere del professor Doxon Lui ci aiuterà a disinnescare la bomba Quale bomba? Esigo una spiegazione Che sta succedendo? Dov'è Dibu? Mi sentite? C'è nessuno dall'altra parte Mi serve aiuto Arrestateli Eh? Professor Doxon Ma che succede? Il professor Doxon Senti E tu chi sei? Mi chiamo Buki Ma dove sono? Sono arte Sì, ma Buki Figlia mia Come c'è arrivata? Ho l'elemento che può disinnescare la bomba Ma dove? Che cosa ci falli? Sì, proprio qui Ti prego fammi uscire adesso Come? Grumi, sono il professor Doxon Accendi la stampante, presto La stampante Usciva dalla stampante Lei mi ha tradito, dottore Saramos E lei è un pazzo, generale Non avrei dovuto dargli ascolto Dovete fare presto La bomba esploderà Dibu, dove sei? Dibu Tu conosci Dibu? Sì Doxon Buki è la sorella di Dibu Segui le sue istruzioni Il testo rosso Il testo rosso Oh, perché non funziona? Attenzione, la stampante ha esaurito la carta E adesso che facciamo? Che facciamo, professore? Martini, ci serve il tuo aiuto È finita la carta Ormai non hanno più tempo Grumi, vai nel bagno e prendi il rotolo di carta e genita Oh, come posso fare? È super assorbente Sbrigati Sbrigati, Grumi Questa salverà il mio pianeta? Sì Presto Presto No, finalmente Questo è l'elemento per fermare la bomba Non riuscirete mai a fermarla È troppo tardi Non è mai troppo tardi Quando tutto sarà finito dovrà darmi delle spiegazioni Vuol dire che abbiamo perso? Lei ha perso Tenetelo d'occhio Signor presidente Ho bisogno di istruzioni, professore Di che si tratta? Dibu, la pillola ha un virus che distruggerà il processo energetico della colomba Dovrete fargliela ingerire Con molta cautela Sembra che ce l'abbiamo fatta, Buki Perché con molta cautela? Non mi fido del generale La colomba Non mi fido del generale Marti, che cosa posso fare? Cerca di trovare i comandi Sono come quelli di tuono, devono essere sul dorso Aprite la porta! Non c'è più tempo Dobbiamo farla esplodere nello spazio Tibu, salta! Non lascerò che il pianeta venga distrutto Vado su! Addio, cartone Treminale! Dibu si è sacrificato per salvarci Da oggi sarà considerato il nostro più grande eroe Mi mancherai! Mi mancherai! Accidenti! I fuochi d'artificio mi sono sempre piaciuti parecchio Ma in questi c'era troppa polvere da sparo Grazie, grazie, grazie Doxon, congratulazioni La sua invenzione ha salvato il mondo Grazie, presidente Ma devo tutto a lui Martin mi ha ridato fiducia in me stesso I vostri figli sono degli eroi Sì, però non vorrei... Stia tranquilla Le prometto ufficialmente che la loro identità rimarrà un segreto di stato Grazie Professore Il sistema energetico per riportarli a casa è attivato Doxon? Ramos? La nazione ha bisogno di voi per un progetto futuro Bene È stato un vero piacere E nel caso il vostro mondo si trovi ancora in pericolo Chiamateci e arriveremo subito Puoi starne certo Non ci dimenticheremo mai di voi Prepararsi alla fase di rientro dell'astronave Credo sia arrivato il momento di dirci addio Mi mancherai Anche tu È un peccato che debba finire così No, troveremo un modo per rivederci Accenda le propulsioni Forza, Buki Allaccia le cinture di sicurezza Si torna a casa Asterraggio è previsto fra 12 ore e 15 minuti Signori presidenti di tutte le nazioni Mi rivolgo a voi E a tutti gli abitanti della Terra In poche ore Abbiamo imparato una lezione fondamentale Per tutti gli esseri umani Noi non siamo soli in questa galassia Oggi affrontiamo una nuova e emozionante sfida Convivere nella pace con il resto dell'universo E ora come ci arrivo a Buenos Aires? I presidenti Delle maggiori nazioni della Terra Hanno promesso di dare inizio a una nuova era Dobbiamo utilizzare Tutto il sapere della razza umana Per raggiungere il traguardo di una convivenza pacifica Oggi Due piccoli eroi hanno rischiato la loro vita per noi E ci hanno ridato La speranza di sognare Che avremo una seconda occasione Dobbiamo ricordare questo giorno Come simbolo di amicizia Molte grazie I miei bambini I miei nipotini A proposito papà La casa mi sembra troppo tranquilla Che cosa staranno combinando i tuoi nipotini? Siamo pronti per decollare, Artiglio Papà, ti avevo detto che non volevo che i bambini giocassero più con quell'aereo Ma ora abbiamo un nuovo pilota Oh santo cielo Siamo pronti per decollare, Artiglio Siamo pronti per decollare, Artiglio Siamo pronti per decollare, Artiglio Siamo pronti per decollare sonata Grazie a tutti.